Paola Ferrari difende Alba Parietti. Attaccano quando non sanno cosa fare Paola Ferrari prende le difese di Alba Parietti sui social. Attaccano sull'età quando Torna a parlare Paola Ferrari. L'affermata giornalista sportiva ha rilasciato un'intervista alla Verità. Dove ha parlato di tanti temi diversi. Dal suo addio alla Rai dopo i mondiali in Qatar. Fino alle critiche che la conduttrice ha ricevuto nel corso della sua carriera di successo. Non manca invece un pensiero sulla sua amica del cuore Alba Parietti. Che nei giorni scorsi si è scagliata contro un'altra giornalista sportiva. La bella siciliana di Dazon di Letta Leotta. Paola Ferrari ha però voluto prendere le difese della madre di Francesco Oppini. Finita nella Fufera in questi giorni. Povera Alba. Di solito evita queste cose. Attaccano sull'età quando non sanno a cos'altro aggrapparsi. Le solite stupidaggini. Ormai i giornali seguono i social. Che ci stanno portando indietro con ragionamenti di cattiveria gratuita. Ha tuonato la presentatrice tra le pagine del giornale. Paola Ferrari ammette. Ho bisogno di un cambiamento nella mia vita. Sarà un futuro certamente diverso quello che si troverà davanti Paola Ferrari. La bella e brava giornalista sportiva. Parlando alla verità. Ha ammesso di sentire l'esigenza di novità. Non a caso il prossimo anno terminerà l'avventura in Rai di Paola Ferrari. E, anche per le cose che ho letto e percepito in giro sul mio conto che Ho pensato che tra un po' sarà il momento di fare un cambiamento nella mia vita. C'è tanta invidia in giro. Ha dichiarato senza tanti giri di parole la giornalista. Paola Ferrari sulla scorsa stagione televisiva. Mi ha dato tante soddisfazioni. Paola Ferrari. Protagonista di un discusso siparietto nel corso degli europei lo scorso luglio. Ha fatto un bilancio della scorsa stagione televisiva parlando alla verità. E, è andata bene. Mi ha dato tante soddisfazioni anche se non posso fare tutto io. Sono stata confermata fino ai mondiali. È un orgoglio. E, è andata bene. E, è andata bene.